Le ad Agostino, dove sono? Arrivano Chefs! Lavoreremo insieme al menu di primavera. Il tuo menu è un menu del secolo scorso, Alexandra. Se mi posso permettere, gli faccia due o tre piatti di cucina molecolare. Ma no, addio alla terza stella. E dove sono le anato? Qua. Ma qua... Qua, qua. Champagne all'azoto per voi. Campai. Camparei. Per il ciclo Cinema in Famiglia, il film Chef. Sabato 24 luglio alle 21.20 su TV 2000. Buon appetito. Buon appetito.